Amici vi do il benvenuto e il ben ritrovati su questo canale YouTube Io intanto vi ricordo di iscrivervi al canale per chi sia un error 2000 Per favore aiutatemi, siamo a 9.59 mi pare Ma dunque, tornando a noi ragazzi, andiamo a parlare del Zirze Che passa dal Bologna al Manchester United E farò una parte in cui analizzerò il colpo per lo United Una parte in cui mi sfogo e una parte in cui Vediamo chi se l'è presa anche nel culo Partendo dalle cifre ragazzi, arriverà allo United per 45 milioni di euro E voi mi direte, ma come grazie è possibile? La clausola è 40 milioni che sono ritardati, che danno 5 milioni a gratis No, ma su quello ci arriviamo Il giocatore che percepirà 3 milioni e mezzo all'anno Zirze classe 2000 può essere? 2001 23 anni già compiuti, che il transfer market valuta 50 milioni di euro Non so come faccio a valere nel 50 onestamente Resta il fatto che comunque passa allo United E... boh, non capisco io Non capisco come puoi decidere Ma come ti può salire in mente di andare allo United? Non puoi! Ragazzi, allora, il Milan sarebbe stata la scelta più giusta Perché? La Juventus? No Perché non la Juventus? Perché? Non ce ne facciamo nulla sostanzialmente Perché ok che può fare la seconda punta Ma sostanzialmente Lui è una prima punta Può far giocare bene la squadra Ma... Ma... No Cioè... No Poi C'era il Milan Perfetto Perfetto per il Milan Perché? Perché è perfetto? Perché comunque avrebbe avuto modo di esprimersi Non in un campionato duro come la Premier League E in caso maturava E l'anno dopo valeva 80 milioni Questo qua Io vi garantisco Che faceva altri Altri 11 gol e 5 assist Fate che faceva 12 gol e 4 assist La prossima stagione Questo qua è in Premier League 80 milioni Io ve lo posso garantire Ve lo posso giurare Ma perché non è arrivato al... Al coso? Al Milan? Beh, la motivazione Direi che è abbastanza semplice Money, 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 money C'è stata una cazzo di interruzione telefonica Comunque tornando a noi Sto bello aggressivo oggi Resta il fatto che Perché non fa il Milan? Per il denaro Perché lui ha detto sì al Milan Ma quanto vorranno di commissioni gli agenti? Via 3 secondi per rispondere Bene, stiamo alle levità Allora Non ne voleva due Non ne volevano cinque Non ne volevano sei Non ne volevano nove Non ne volevano dieci Ma volevano 15 milioni di commissioni Fiamo un applauso ai dirigenti Ai procuratori del... Del Milan Ma... Del... Del giocatore Un ragazzo si chiama De Zizze Ma perché Volevano... Allora Io non sto scherzando Parte dei guadagni Sarebbero andati Alla famiglia Gli Zizze Ma allora io posso dire Ma è scandaloso Ma come può Un... Degli agenti Ma stiamo scherzando Degli agenti Vanno a prendersi queste cose Allora questa è poi Tipo una casa discografica Mettiamola così Semplicemente che in questo caso Loro chiedono le commissioni E hanno come giocatori Douglas Lewis Tete Reguillon Filippo Coutinho Ne hanno anche qualcun altro Ero El Ghazi Questo quasi Anche Cedric Sorales Che doveva venire un po' di anni fa Da noi Invece andò all'Arsenal Resta il fatto Che comunque Non è che sono bambini Cioè ragazzi Queste esperienze ne hanno Ma come ti può Venire in mente A te Zizze Di non dire Guardate che Il giocatore Che deve decidere Non siete voi Voi non siete nessuno Io avrei preso Onestamente E li avremmo andati A fare in culo Perché comunque I procuratori Cioè non è che sono Una cosa fondamentale Quanti giocatori Abbiamo visto che Abbiamo come procuratore Il padre Mi pare che lo stesso Messi abbia come procuratore Il padre Eppure non mi pare Un coglione Messi Resta il fatto Che comunque Allora chi arriva A bussare la porta In Milan si defila La Juve Boh Non ce ne facevamo niente Stavamo già investendo Abbiamo da investire Su altro Come ad esempio Coppe Miners Un difensore centrale Arriva allora Papparà La Premier League Inaspettato Ma io appena ho letto Manchester United Chiede informazioni Insurrezze L'avevo già capito Che sarebbe andato là Ragazzi Zirzi è un giocatore Che io ho sempre amato Che scopro Dalla carriera di FIFA Ma ragazzi È un giocatore Che mi è sempre piaciuto Me lo ricordo Al Parma Me lo ricordo All'Anderect E poi Quando i giocatori Che mi piacciono Diventano mainstream Di solito Non mi piacciono più Ma soprattutto Quando fanno Questi trasferimenti Allora Io Tifo Juve Lo sapete Dovrei esserne felice Ma Comunque Cioè È una cosa scandalosa Che poi Non so se l'ho detto poco fa Ma Di questi 45 milioni Perché diventano 45 Innanzitutto Perché Lo United ha detto Scusate Non è che mi fate pagare I vostri 40 milioni In tre rate No Non te li facciamo pagare In tre rate Bene Vi rendiamo Cinque in più Allora Ci fate pagare A rate Ok Pagherai A rate Quindi è così che funziona Quindi pagheranno In tre rate Da ciò che ho capito Non in due Ma in tre Questi 45 milioni Resta il fatto Ragazzi Che Di questi 45 Che incasseranno Attenzione Bene Fate 45 Meno 37 Ecco Questi 8 milioni Andranno dritti Nelle casse Del Bologna Da Questi 37 Da dove sono spuntati Da questi 37 Voi li dovete dividere a metà 30 15 7 3 e mezzo Diventano 18 E mezzo Andranno al Maier Monaco Perché Hanno detto Se qualcuno arriva a spendere Massimo 37 milioni Voi ci date il 50% Di 37 massimo Bene Quindi Gli altri 8 milioni Andranno a loro Loro si incassano 18 milioni e mezzo 18 più 8 Fa Cazzo ne so 26 e mezzo Quindi 26 e mezzo Nelle tasche Tutti del Bologna Allora voi Mi dovete dire Ma Sir È veramente così forte? Non è che un One season wonder Perché Io ho già letto gente Che ha detto Farà la fine di Anthony Di Sancio Di Erasmus Oilund Ma voi ragazzi Il calcio Lo guardate Per carità di Dio Perché Oilund Ma stiamo scherzando Oilund è veramente Un signor attaccante Ma più che altro Il buon Joshua Sir Cosa vai Al Manchester United Perché loro in attacco Non è che sui scemi Loro c'hanno Rasmus Oilund E c'hanno volendo Marcus Rashford Che può fare a punta C'è ragazzi Ma seriamente fai Io non capisco Cosa ti possa spingere A andare Al Al Manchester United Dove rischieresti Dove secondo me Al momento Tu rischi Di trovarti La strada chiusa E che quella strada Non ti si riapre Mai più Secondo me Ha fatto una cazzata Io fosse in lui Avrei detto agli procuratori Chiedete 5 Massimo 10 milioni Certo Cercate di chiedere Il più possibile Perché ovviamente Ognuno fa i propri interessi Provate 15 Ma se alla fine Vi dico Ti diamo 10 Ti diamo 11 Io avrei accettato Perché il Milan Per quanto Non ti possa convincere 100% Fonseca Ma comunque ragazzi Fonseca Ho capito che non sarà Gesù Cristo Ma Fonseca e Pioli Per quanto mi riguarda Stanno sullo stesso piano Anzi Fonseca leggermente avanti Quindi Io onestamente Voto all'operazione Di Zirze Solo per il costo Gli non sei Ma sulla carta Sarebbe Mettete 60 Io gli avrei dato 4 e mezzo Perché al momento Non lo vedo Un giocatore Totalmente utile E poi Questi 11 gol e 6 assist Che per carità Sono buoni dati Ma ragazzi Ma può valere Veramente già 60 milioni Uno che fa 11 gol e 6 assist Perché questo qua Senza la clausola Valeva 60-70 Io vi avviso Non ne vedo il senso Di prenderlo Perché c'hai già Raspunso Eilund E io fossi Uno Eilund Un pochino Mi scazzerei Cioè È come tipo Bagnaia Sono Pecco Bagnaia Mia franchi Mark Markets Ma come? Ma come? Prima guida Cosa mi va a fiancare Mark Markets Che è forte quanto me Non ne capisco Veramente Raspunso Eilund Lo reputo comunque Un piano Totalmente sopra A Joshua Zirze Io comunque Ne approfitto Per salutarvi Per augurarvi Una buona giornata Non so quando Vedrete mai questo video Se lo vedrete Io comunque Vi saluto Ravuto mille iscritti Ciao